Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi siamo su Poppy Playtime Story su Roblox Esiste Poppy Playtime anche su Roblox Quindi andiamo subito a vedere se effettivamente rispecchio un po' il gioco originale Ovviamente supportate sempre essere il canale lasciando un mi piace ragazzi Options, graphics, low, medium, high, medium, back, play, forza Vediamo, vediamo Salve gente Che facciamo qua tutti appassionatamente? Aspettiamo il nostro turno? Esaltiamo, esaltiamo allegremente Join the group, farà special tag, plus secret item Ma chi serve? Fatemi giocare a Poppy Playtime Scusa che fate qua? La danza sul cubo Posso entrare? Teleporting Entro, players, time Teleporting, live No, no, fatemi teletrasportare per favore, fatemi giocare C'è un segreto dentro la fabbrica, trovalo Due, uno, due giocatori, giochiamo assieme Attenzione, vediamo C'è anche il multiplayer su Poppy Playtime Vediamo come interagiamo Chapter 1 Da Panda TM3 Salve amico Che facciamo tutti e due? Andiamo C'è Poppy lì Laggo un pochino Salve Poppino Come sta? Come sta signor Poppy? Che facciamo di bello? Amico Tu te ne stai lì? Facciamo io vado a destra e tu a sinistra Tu vai a sinistra e io vado a destra In teoria dobbiamo recuperarci il codice qua Quindi andiamo al trenino Mamma come lagga però Dovrebbe esserci il trenino qua Con la combinazione con il codice Giusto? Infatti Laggo un po' però Allora verde, rosa, giallo, rosso Amico Te lo do io il codice Quello si sta facendo proprio gli affaracci suoi Allora verde, rosa, giallo, rosso All right Somebody take the green videotape and put it inside the TV Ma non mi fa passare Ah sta guardando lui la cassetta Ok E guardiamoci Questa è identico È identico al gioco Però io nel frattempo mi sono scordato il codice Dettagli Ci penso io al codice amico L'ho visto Non me lo so scordato Ancora non mi fa passare Sì sì ho capito Ho capito Stacca Brucia la cassetta Brucia Niente dobbiamo stare qua ad ascoltarci la cassetta Ci penso io L'ho capito che devo prendermi il codice Niente non mi fa passare Amico che facciamo? Dobbiamo ascoltare il suo tizio che parla e rompe Se lui passa poi mi arrabbiavo Badge Roll Il badge non ci interessa Il codice l'ho preso io Prima non termina la cassetta non possiamo andare avanti Ripassiamo Verde, rosa, giallo, rosso C'è qualcosa da fare qua no? È finita è finita Attenzione Verde, rosa, giallo, rosso Che è? Guys How do we open this big door? Lo so lo so Tranquillo Check the security room L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Non mi rompete le scatoline Perché mi chiudete qua le porte in faccia? Allora tizio Verde, rosa, giallo, rosso Ci penso io? Ci penso io Tenqui Io sono qua al tuo servizio Verde, rosa, giallo, rosso Vediamo Interagiamo E come? Aspetta Dove? Verde Rosa Come interagisco? Find a way Giallo Rosso Non si apre Amico Non mi interagisce Come interagiamo noi con questo pannello? Aspetta Allora verde Verde Rosa Rosa Giallo Se tu non ti aiuti dalle scatole però Non succede niente Non succede niente Non riusciamo ad interagire col pannello qua Allora verde Verde Rosa Giallo Rosso Non si apre Ci hanno preso in giro Amico Non è che potresti andare tu a vedere lì il codice pure Non è che dobbiamo fare qualcos'altro Non credo Come si resetta qua? Non possiamo cliccare Verde Rosa Giallo Rosso Niente Verde Rosa Giallo Rosso Amico Non funziona il pannello E facciamo prendere un'attestate We found it In che senso? Come ha interagito con il pannello? Fammi capire Come hai fatto? Ramoscellotto Mamma mia Cioè beh è preciso È preciso Non ci posso creare Oh look I daghi waghi Eh Aspetta un attimo Non fare tutto a tu però Quello è passato io no Apri la porta Brutto essere Vabbè tanto dobbiamo andare di là Quindi chi si frega Vieni qua seguimi Quello è rimasto incastrato È rimasto lui incastrato No Va aperto A posto Andiamo Ramoscellotto Vai Veloce Ah aspetta Devo prendermi le mani io Devo prendere Le mani Non devo prendere le mani Le prendiamo lì Non lo so Fatevo In teoria avrei dovuto prendere le mani Possiamo andare Perché lì dobbiamo cliccare le Con le Lui ce l'ha Perché io no? Ma che mi prendete in giro? All right We need to open the gate With a blue end Sì l'ho capito Però Find a blue end L'ho capito Non interagisco qua Non è che dovevo mettere la cassetta Prima Perché sta facendo tutto il tizio Io non sto facendo niente No perché comunque abbiamo la partita in comune Quindi che senso ha? E niente ho raviato ragazzi Adesso siamo in 5 però Ci sarà ancora più casino Ci sarà ancora più casino Non riesco a mettere il codice Ma è assurda sta cosa Allora siamo in 5 No siamo in No ecco 5 Allora mettiamo la cassetta Qualcuno metta la cassetta La metto io stavolta Così non mi rompete le scatole Metto la cassetta Dai Gesù Inserisci qua Dov'è? Inserisci la cassetta Per favore Eh l'ho presa la cassetta Non la prende Non la Oh mi sono arrampicato Pure sull'altri Guarda là E fin qua ci siamo E' scriptato sto gioco Perché se io faccio le cose Prima che me lo chiedono Non succede niente Non funziona Oh E fin qua ci siamo Io mi devo ascoltare Tutta la storiella Prima giusto? No Ah il codice Il codice Se io guardo il codice Se io guardo il codice qua Me lo dovete prendere Giusto? Verde, rosa, giallo, rosso Stesso Lo stesso di prima Verde, rosa, giallo, rosso Tizzi È verde, rosa, giallo, rosso Però non si apre il pannello E fin quando non finisce la cassetta Ovviamente non ce ne possiamo accertare Dobbiamo ascoltarci nuovamente la cassetta Fatto? Allora Verde, rosa, giallo, rosso Possiamo interagire per favore Guys How do we open this big door? Sto parlando io Check the security room Si lo capite È sempre lo stesso codice Verde, rosa, giallo, rosso L'abbiamo capito Mi fa interagire adesso? Non mi fa interagire Non mi fa... Verde Rosa Giallo Rosso Non si apre sta affare qua Verde I can use Che vuoi usare? E niente Mi infilo con voi Che volete che vi dica? Che volete che vi dica? A me non mi si apre il pannello Ok E fin qua ci siamo Salve Poppino Sempre proprio un bici Allora la mano Posso prenderla Oh look It's aggy waggy Allora la mano Datemi una mano per favore Non c'è la mano qua Mi sono seduto Staccati dalla tastiera Staccati C'era una mano qua Eh infatti dobbiamo guardare qua la tv Mi sono arrampicato sulla tv Let's see what's there Veloce però Dammi sta mano Dammi la mano Dammi la mano Oh tizio Per favore Allora Allora Fa la gente Fa la gente Fa la gente Va beh Che dobbiamo fa Evidentemente se la prende uno Non può prenderne un altro Damn Now Look Aggy has a key Oh la prendo io la key La key ma la prendo io Non 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 interferite con il mio lavoro Get the key Arrivo aggy Arrivo Arrivo aggy Si stanno andando Ma io che faccio Scusate Io che faccio Vi guardo Ci arrivo Ah Là c'è un parkour da fare Ci è arrivato quel tizio Ci arrivi o cadi Ci arriva Ci arriva Ci è arrivato Ci arrivi L'hai preso A posto Got it Veramente io non ho preso niente Ma lo dico Dettagli Sempre dettagli Power Key needed Ok E me ne vado Me ne vado Dove era Key needed Dove era Dove era il key needed Di là Aspettate un attimo amici Ci organizziamo Di qua Andiamo di qua Forse Insimati Non ci passo Ok ci passo Ok Dove siamo Tutto buio Let's find The control panel Allora io non Non mi vedo Io mi sono intersecato Qua con qualcuno Qualcosa Che è Non prendete a testare Gli armadietti Per favore Poi vi fate i bernoccoli Io non avanzo Io sono bloccato qua Yeah Fate fate tutto voi Io vi guardo Che volete che vi dica Don't remember this place Scusa tizia Ti ho ostacolato un po' La visual Allora Mi fate fare qualcosa Attivo io qua I generatori Le scale E scendiamo Dalle scale Non si vede un figo secco Che è Che succede Che Found it Che cosa Che Non vedo niente Anche il pannello Vai Fatto Fatto Non so chi Ma qualcuno L'ha fatto Quindi È aperto Possiamo andare via Risaliamo Oh finalmente Un po' di luce È arrivato In questo posto Lugubre Risali Risali Tizia Veloce Veloce Qua Fanno le cose Al posto nostro Via Vi anticipo Vi anticipo Dove era l'uscita Vi anticipo Esco da qua E mi insino Guys Where is Aghiwaghi Scappato Fatemi passare Ok Vado avanti Amici tranquilli Non mi fa passare This place scares me I think We should Leave No We have to find The flower Fammi passare Poi lo dico Find the flower Fammi passare Quello è morto Che ti sta facendo Riposì Via Mi seguite amici Faccio da solo Mi segui Che Questa era Aghiwaghi Mamma mia Aghiwaghi I'm scared Ho capito Ho capito Che sei scared Me too E parliamo tutte e due Perché gli altri Sono morti evidentemente Che vuoi che ti dico Via Qui c'è un astrobot Salgo Saliamo amico Sei con me Che Mi è arrivata una banana in faccia Che era sta cosa Oh no Is dead È morto Un collega morto Did Did Aghi Did Did This È stato Aghiwaghi Mi sa di si Mi sa di si We don't know But We Whatever Did This Vabbè Cassetta gialla Non ce l'abbiamo Qua Ok Map made Ho capito Dove Aghi Dove sei Fatti Te T pronto Adesso non ostacolarmi qua non c'è Non c'è Aghi Qua Ci hai trovato qualcosa Qua no E allora che gironzoliamo Qua come le mosche Saliamo Sali 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 Ah qua c'è La mano rossa Ok No È preciso al gioco Ragazzi È preciso al gioco Ok Dobbiamo trovare i componenti qua Mi butto io, mi butto io e qualcosa troverò Ne ho visto uno mi sa Ok, visto Preso Found it, non lo prende però Niente, è semplicemente questo Questa è la bocca del creeper di Minecraft Vabbè Fatto, let's go Andiamo, uno solo Meglio, questa è la bocca del creeper di Minecraft Si va? Lord Pixelaint Mi stai seguendo, si Non mi direi che già si è mai condotti Che è? No, è sì o niente, è sì o sto cacchio Lagga, lagga In una maniera impressionante, lagga Seguimi amico Seguimi che c'è aghi Dove sei? Sei dietro di me Don't worry guys Ah ok, dobbiamo costruirci il giocattolo Qua è preciso, è spiccicato Guarda lì com'è fiero di sé Vabbè Sono rimasto bloccato Amico mi apri per favore Sono rimasto bloccato qua Amico salvami A meno che devo aspettare l'amico che fa qualcosa Amico io sono sempre rimasto qua Nel dubbio A meno che ho preso Arrivo Arrivo qua ci sono pure i labirinti Trovato, trovato la strada Trovato la strada Salve Aghino Salve Non mi picchiare Aghino Non mi picchiare Dove vado io qua? Lì nel condotto Aghino per favore Non ci rompe le scatoline Aghino Dai Gesù Che mi insinuo qua nel condotto Via, via Già strano Dov'è? Amico Ti seguo È chiuso qua Dove si va? Beh È tutto chiuso qua Hey you heard that? No Non sento niente Eh di nuovo lui Ci sta rincorrendo le condotte Aiuto Run Eh no Beh è figliissimo Run Dall'altra parte Dall'altra parte Run amico Run Io ti seguo Spero che tu indovinerai la strada Altrimenti ci andiamo a morire tutti e due Ti sto seguendo amico Sono qui dietro di te Proprio Se si sporeggi proprio ti sento Che? Ti hai ripensato? Che facciamo? Capito Uh Avanza Amico Ti stai facendo L'ammazzato Io non mi vedo più Io non mi vedo più Che si fa? Io mi vedo proprio nel vuoto più totale Non c'è qua Non c'è una via Mi ha ammazzato Run È chiuso qua Dove vado? Mi ha preso Non vedo niente io A chi? Siamo morti tutti e due Sono diventato pure caldo Guarda Quindi niente Quindi siamo morti Possiamo uscire dal gioco Dobbiamo rifare Dobbiamo fare tutto da capo No vabbè Però è preciso È preciso dal gioco Però lì si può ripetere Quanto meno C'è un checkpoint qualcosa Tutto da capo Tutto da capo Vabbè ragazzi Gioco fighissimo Quindi fatemi sapere Se volete che ci riproviamo Perché è da finire È da finire Questo è da finire Quindi mi raccomando Ascoltate un bel like Ascoltate a casa Se siete iscritti Attivate la campanella E poi c'è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Brawl Stars Come sapete In molti Dal mio posto pubblicato Domenico Mi avevano rubato L'account Infatti Il caro ManuX180 Non so come tu Abbia fatto Mi avevi rubato L'account L'account L'account